Siamo qui con due ospiti particolari per me, sono i due fratelli Lusuriello, Riccardo e Stefano. Molto simili, molto diversi nello stesso tempo, due discipline differenti, nonostante l'inizio fosse stata poi la scherma per tutti e due. Incontriamo prima Riccardo, in qualità di mio figlio, e poi Stefano, in qualità del mio secondo figlio. Allora Riccardo, sedicesimo ai campionati italiani di scherma, un brutto infortunio ti ferma. Buonasera a tutti, esatto, purtroppo questo infortunio ha decretato la fine della mia stagione agonistica di quest'anno, che purtroppo ho dovuto anche saltare gare molto importanti e niente. Che ti hanno fatto poi ripensare un attimino al fatto che oltre alla scherma c'è altro nella vita, ti rivedremo nella scherma con la prossima stagione? Vediamo, dai, lasciamo passare l'estate e poi ci penserò. Bene, Stefano invece tu inizi con la scherma, in realtà provi tantissimi sport e poi ti sposti verso il football americano, giusto? Ti piace? Sì, è uno sport di squadra, soprattutto mi piace per questo. Siete arrivati quarti ai campionati italiani, soddisfatto di questo risultato? Sì, sì, molto. Soprattutto per le salamelle e il clima di squadra che si è creato dopo, giusto? Sì. Bagni in piscina? In piscina. Bene, quindi ragazzi provate la scherma e provate il football americano. Salutiamo i miei due figlioli con un bacio. Non riesco mai a baciarli, lo faccio adesso. Buona serata a tutti.